normale poteva essere l'inizio della nuova era il contenuto con il metro nicolino di questa sera fratelli bianconeri sorelle bianconeri invece no iscrivetevi al canale like al video commenti campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate se sono rose fioriranno siamo sul pianeta terra oppure no rocchi due punti aperte le virgorette allegri che ha lasciato urlando dov'è rocchi eccolo rocchi ha detto presente sono qua ha detto ma non abbiamo avuto dei grossi problemi con i rigori quest'anno ah sì a parte uno quello in giuve bologna con doie quindi caro mirco nicolino chiedo l'aiuto da casa e quindi a te che sei il mio casalingo preferito di riferimento o io ho vissuto su marte fino ad oggi o è rocchi che vive sul pianeta nerazzurro ma sai io ero lì con te ma non ti ho riconosciuto perché sei passato probabilmente senza occhiali su marte non ci siamo e non ti ho riconosciuto e non ci siamo nemmeno salutati perché evidentemente io ero allo stesso posto eravamo lì sulle dune da e dove da lì da lontano non vedi bene i calci di rigore no io trovai già fuori luogo Claudio che in quell'occasione subito dopo la partita quando ci furono le polemiche arbitrali laia fece un comunicato a lanza eh ammettendo l'errore eh di quella partita citando però solo l'errore come errore quello di indoglio senza prendere minimamente in considerazione gli altri due episodi clamorosi di quella partita che erano un falli un fallo di mano in umani in area del bologna quindi rigore potenziale per la juventus è un rigore solare secondo me è addetta anche di Cesari e altri commentatori che hanno fatto la moviola eh su Chiesa su Federico Chiesa che viene letteralmente appostato ma cosa stai dicendo Mirko ha detto il disegnatore Rocchi che non si ricorda altri rigori se non quello lì non lo so per esempio boh non lo so il distranciato in un'area di rigore avversario non lo so le prime cose mi vengono in mente ma ma l'ultima la Coppa Italia non c'è un rigore in finale di Coppa Italia su Claudici ma no ma no ma l'unico rigore che passerà alla storia in Doi e in Juve Bologna questa però è la dimostrazione Mirko e abbiamo corretto il 92 per cento degli errori certo questa è la dimostrazione di quello che noi vanamente a questo punto cerchiamo di raccontare soprattutto alla parte dei nostri tifosi barra tifose bianconeri bianconere quando ci dicono ma no siamo diversi dagli altri ma no ma non stiamo attaccarci ma no ma non stare ma no ma non ti inviperire ma lascia stare perché tanto poi alla fine no perché tanto poi alla fine di un campionato dove dove e non è un'opinione personale mia e tue dai sono dati di fatto dove chi ha vinto il campionato sicuramente ha l'ottanta per cento degli episodi a favori chi non l'ha vinto la Juve sicuramente ce l'ha a contrari alla storia di questo campionato nel racconto passerà il disegnatore ma io lo dissi dopo Juve Bologna guardate che questo diventerà che è una sciocchezza perché nella stessa partita c'è un rigore clamoroso minimo su chiesa più uno come detto tu per farlo di mano ma sempre in quella partita lì ma passerà come il campionato di Indoie e quindi anche un campionato dove la Juve è stata disintegrata dal VAR passerà la storia come l'unico episodio che dice il disegnatore essere del rigore non dato al Bologna questo è il racconto abbiamo rubato anche quest'anno vergogna abbiamo rubato un terzo posto ma io tra secolo a difesa gravina e questo è il ritornello che si legge spesso sui social gravina sempre a difesa del brand Juve e anche quest'anno anche quest'anno ecco sempre non poteva mancare quest'anno nella giornata in cui succedono due episodi chiave del nostro calcio perché poi sempre derby d'Italia sarà ah no scusa una piccola tinta di rosso nero se mi permetti Sinner da oggi è il numero uno del mondo perché Djokovic si è ritirato dal torneo del Romano quindi praticamente è il numero uno a tavolino ci sta ci sta no vabbè ho visto un po' le combinazioni e Sinner cioè per non diventare numero uno Djokovic sarebbe dovuto arrivare in semifinale e Sinner uscire agli ottavi quindi ormai sarebbe diventato numero uno però solo questione di giorni essendo lui un simpatizzante nel Milano ovviamente è un po' invidioso però sicuro al Djmedica però sicuro al Djmedica perché quando deve essere rimesso in sesto lo sa dove deve andare senti vuoi salutare questa elezione avvenuta nella giornata di oggi in mattinata di Marotta presidente della squadra campione d'Italia con tanto di auto dello Stato pagate dalle nostre tasse del presidente del Senato la russa che corre ad acclamare nel consiglio di amministrazione siccome ho lavorato tanti anni per la cronaca e per la politica e ce l'ho a nausea mi rifiuto di commentare la russa penso che nessun altro paese il presidente di una delle due camere anziché andare a lavorare andrebbe alla presentazione del presidente del nuovo presidente della squadra per cui fa il tifo sono contento che finalmente l'Inter ha un presidente che conosce il numero degli scudetti della Juventus perché Marotta ha quando la Juventus ha vinto il trentasesimo scudetto ci ha tenuto a precisare non fare così è già successo con la festa della della stella di cartone doppia lui ha detto che sono ve di là erano trenta di qua sono venti d'altronde d'altronde se ne hai già dimenticato ma lui può tutto da piccolino Varesotto simpatizzava i rossoneri poi è diventato Juventino adottato e acquisito e adesso è presidente dell'altra squadra di Milano ha fatto tutto complimenti a lui vuol dire che è bravo complimenti a lui e meno complimenti a noi che siamo stati in ballo una settimana tra minacce legali da parte della Juventus ad Allegri contro minacce da parte dell'allenatore voglio anche i danni e poi alla fine in una sera di avvocati o meglio in un gran premio e in una finale di Champions League dove forse no Allegri ha incontrato da vicino Elkan una bella stringiuta di Mann e usciamone tutti meglio di così non poteva che essere altrimenti eh perché allora eh John Elkan in in questa situazione in questi giorni è molto criticato però devo dire la verità eh in questa situazione la gestita la gestita si è comportato bene perché dico perché quando è stato informato della dell'invio della lettera di licenziamento da Allegri eh per quello che so io lui ha risposto avete preso questa decisione portatela avanti vediamo cosa succede succede poi però che Massimiliano Allegri fa delle contradduzioni con i suoi legali e siccome persino degli Orossi quando è stato licenziato per lo schiaffo agli Aic con le sue contradduzioni vinse la causa contro la Fiorentina e siccome c'erano diversi pareri legali che dicevano alla Juventus guardate che qui c'è il rischio che il forte rischio che perdete e quindi oltre a dovergli dare quello che gli aspettava può darsi che dobbiate anche pagare dei danni e allora lì John Elkan che vuole risolvere spesso queste cose in maniera buon'aria e sapete anch'io l'ho spesso criticato quando ci sono le calda lo cerca di scendere a parte è un po' allergico ad andare oltre è un po' allergico ad andare oltre anche perché anche perché noi non è che nei tribunali siamo così forti e allora dice guarda piuttosto che perdere va bene ma questa era Villar perosa Juve a Juve bisco e la sai però sarebbe stata l'aggravante cioè perdiamo anche contro noi stessi quindi dice vabbè risolviamola poi top secret l'accordo io ieri sera ho ricevuto diverse versioni dico la verità non credo a nessuna di queste versioni perché la verità la sanno loro e la conosceremo quando la diventa schiererà il bilancio io l'ho già detto quando ci sono passato pure io quando c'è un accordo tra parti lavorative di secretezza cioè è inutile leggere su un giornale 5 4 3 2 1 perché se l'accordo è patto di secretezza nessuno può comunicare le cifre lo scopriremo sul bilancio salvo pagare poi delle penali se vai incontro a spifferare quelli che sono le cifre esatto quindi quando quando al 30 giugno finirà la stagione sportiva e poi ci sarà l'approvazione subito nei mesi successivi conosceremo finalmente quanti soldi sono stati dati ad allegri su una cifra io e te devo dire che anticipando tutti ma cosa dici non è vero adesso vedo che sono tutti d'accordo cioè che molta prenderà 5 milioni sì io devo dire la verità ancora non ho capito non ho capito se in questa cifra è incluso lo staff o meno no però no no vedi che su questo non abbiamo non ci siamo confrontati su questo te lo aggiungo io vedi 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 il bello è il bello è il bello delle nostre live e ci sta attenzione però siccome noi siamo sempre bravi a rompere le casse ai nostri allenatori per i soldi che vanno a guadagnare era in una posizione forte e cioè tu l'hai allontanato allegri è puntato subito e rimane solo io ora dobbiamo dirla questa cosa non è che noi tiago motta lo valuteremo in base allo stipendio che gli viene dato assolutamente no uno bravo lui a farselo dare due ovviamente dovrà rispondere sul sul campo con il lavoro e se la juventus glieli ha dati ecco attenzione questa è la differenza tra chi dà sfogo al suo disagio perché ora addirittura ho letto oggi che non si doveva fare le vacanze moto doveva venire cioè gli stessi che volevano fuori allegri ora stanno attaccando motta perché si sta facendo le vacanze per ragazzi questi qui hanno dei contratti che scadono al 30 giugno dentro il 30 giugno si devono fare un tot di giorni di vacanze altrimenti le perdono quindi questo qui si sta facendo le meritate vacanze permettete che se le faccia il nostro prossimo allenatore della juve me lo vuoi far arrivare fresco devo farlo arrivare consumato mentalmente esatto no ma non avrebbe avuto senso che lui consumasse dei giorni di vacanza per tornare dalla spagna a torino firmare poi ripartire per la spagna cioè che motivo aveva ma stiamo veramente discutendo dei giorni di vacanza stiamo discutendo di questo perché perché il disagio a vie infinite allora io dico secondo me se la juventus ha dato questi soldi a moto vuol dire che la juventus ritiene che moto sia l'uomo giusto io e io in questo caso sì accetto di essere aziendalista la juventus dà questi soldi a moto per me sono giusti moto prende quei soldi per me sono giusti moto lo voluteremo sul lavoro che farà sulla base del lavoro possiamo se mai discutere se è giusto dargli di gregorio al nuovo allenatore quello potremmo discutere che un'altra attenzione adesso diamo una notizia perché poi il resto le diamo la prossima no attenzione di gregorio arriva di gregorio arriva però per in sa che allora per in quando ha accettato di fare il secondo la juventus gli è stato garantito diciamo tra virgolette un range tra 15 e 20 presenze l'anno ok ora lui dice l'anno scorso avevamo solo il campionato e non l'ho fatta ma quest'anno abbiamo cinque competizioni c'è la possibilità che io faccia queste 20 presenze e quindi io voglio restare poi in futuro non so cosa succederà quindi per in ad oggi vuole restare a me vendiamo c'è snia d'oggi c'è snia d'oggi non vuole andare via aveva non vuole andare via nessuno e non vuole andare alla juve si sta bene perché ogni due o tre del mese non ricordo quando è in sogno non si può toccare perché imprescindibile pinsoio rinnova certo e quindi vediamo chi va via io sono curioso di vedere come si risolve questa situazione con quattro portieri sono curioso poi posto che di gregorio arriva in prestito con obbligo di riscatto è quindi stai calmo è l'uomo digre stai calmo l'uomo digre ascolta senti sai che secondo me scesni chiuderà la carriera la juventus con una grandissima sottovalutazione dei nostri tifosi te lo dico io perché sai come dopo pirlo siamo sempre alla cerca di pirlo ovviamente dopo buffon sono tutti nascosti ma scesni ha fatto una grande carriera la juventus secondo me ha dimostrato di essere un enorme portiere per me è uno dei primi tre al mondo poi sarò io fissato ma per me è uno dei migliori tre al mondo senti chiuso i portieri no chiuso i portieri andando velocissimamente perché noi abbiamo dipinto le difficoltà che ci saranno sul mercato e tutti non è vero leggi con minor 60 davis lui 68 e si 140 milioni per due centrocampisti e basta o secondo te qualcuno di questi si può realizzare no secondo me qualcuno di questi si può realizzare però io tenderei a guardare in italia perché in italia è più facile trovare la la quadra con cifre con contropartite tecniche cifre dilazionate nel tempo poi se questo lui a me questo lui spiace ha un costo che che tra i 60 e 70 milioni ha ancora due anni di contratto mckenney ne ha uno solo e ci viene valutato tra i 20 e i 25 quando sento parlare di scambio mi si drizzano un po le orecchie non può essere non si può parlare di scambio perché anche se tu mettessi nell'operazione mckenney dovresti trovare altri 45 milioni perché e poi con le squadre estere i milioni sono stato un po meravigliato oggi da leggere la quadratura dei stai lavorando la quadratura dei conti quadratura da 20 a 65 cosa vai quadratura poi magari ci sorprendono abbiamo preso questi 5 milioni in più con il terzo posto abbiamo abbiamo preso alcaraz valutandolo 50 può succedere tutto nel mondo del mercato senti mirko scusa l'argomento che non è dibattuto stranamente però però tra tra i nostri prende piede siccome so che tu ogni tanto hai qualche uscitina dai palazzi ma questo membro della coviso che doveva spiattellare tutto vediamo no dobbiamo 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 rispettare il lavoro di chi di chi sta svolgendo le indagini una notizia la possiamo dare c'è c'è la volontà di andare fino in fondo a questa situazione qui soprattutto dopo le dimissioni ora cosa succederà io non lo posso sapere dalla politica noi sappiamo che gravina ha emanato il nuovo bando per la composizione della nuova coviso però per quello che so io anche se si insedierà una nuova coviso sarà commissariata e il rischio che venga commissariata anche la figici perché si dice in ambienti romani che la situazione sia talmente compromessa che debba intervenire la politica da che cosa è compromessa questa situazione da spifferi che vengono dalle procure non lo so vedremo cercheremo di capire nei prossimi giorni magari magari nella prossima settimana siamo rovinati noi e già questo è quanto dire già perso in partenza e già e no ma già è già la politica intervenuta claudio con la commissione che analizzerà i bilanci è già intervenuta sì quindi siamo già all'ultimo stadio se mi interviene trancià ma siamo già all'ultimo stadio claudio è siamo già all'ultimo stadio secondo me però magari il prossimo video che facciamo daremo delle notizie più più precise più fresche settimana prossima potrebbe essere a sorpresa già tempo di tiago motta vediamo perché ci stiamo avvicinando il metro nicolino non sbaglia mai non sfugge a niente quindi ragazzi iscrivetevi sempre al canale like al video commenti campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate io sto qua e mirko starà chi sta meglio secondo me è tu ciao 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 ciao